Dopo aver castigato il Montevarchi, il Valdarno Football Club si prende di fatto anche un altro scalpo illustre con la seconda vittoria consecutiva, targata fuori a Sassi, ai danni stavolta della Bucinese cui non è servito nemmeno la prodo in arancio verde dell'ex rignanese Baccini. Dopo nemmeno un minuto, Regoli rinnova il tabellino con un diagonale nello specchio con la mano di Richiamo Scarpelli, De Via in angolo. Da corner, ma sul fonte opposto, nasce invece il vantaggio giallo-blu. Ma Nini è lasciato colpevolmente solo, è libero di segnare infatti di testa dal limite dell'area piccola, fin troppo facile. Non è l'unica emozione importante della frazione perché al 39esimo Fabbrini verticalizza proprio per Baccini che si gira in una mattonella e indirizza il diagonale abile a ingannare l'estremo ospite coperto da Bonzi, 1-1. Ma i figlinesi rimettono la testa avanti quando salta al fuorigioco, stavolta su Falgareggi, pallone al centro che trova Bigeschi sul montante opposto per il 2-1. Nella ripresa è un assedio da parte della Bucinese. Mecocci saggia dal limite, riflessi di Scarpelli. Poi è ghiotta l'occasione con errore conseguentemente grave per Pasquini che spedisce a lato un penalty in movimento su assist da destra di Baccini. Nel finale dentro anche Pavani, Scarpelli in una circostanza, è fortunato sul rimpallo ai danni dell'attacchante ma il mea culpa più importante è ancora di Pasquini. Tapin sul fondo nell'ennesimo pallone in aria. Finisce dunque Bucinese 1-Valdarno Football Club 2.